Grazie a tutti. 2-0 per i Gallipoli, 2-2, attenzione a Scaglia che ne ha da spendere in destra, perfetto, in fase difensiva di Franchini. Messioni avanti Marciotta alla sponda per Sgrigna. 2-0. Di recupero, arriva Diana, parte il cross dentro. Martinetti, il copo di destra per gli attaccanti. Moselli e Martinetti. Grazie. 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 ormai quasi qui De Falco Sacrae la lascia sfilare fase difensiva che offensiva con il petto, poi il tocco in profondità, l'ultimo a toccare proprio Tecrae che riesce in maniera anche Tecrae che riesce in maniera anche i compagni di squadra prova Gerardi, sempre grande razionalità nella manovra dell'Ancona, qui proprio Tecrae che tocca il primo pallone guarda in mezzo il possente inglese, poi si ferma a scacchi dopo l'uscita forzata di Savagno per Tecrae ancora il giocatore Newcastle, lo scambio con Surraco, prova a sovrapporsi l'inglese Tacrae, attenzione, spinge l'Ancona, pallone molto pericoloso minuti più tardi su una punizione un giocatore calabrese si trova tutto solo sulla sinistra e Chris Tacrai sigla il pareggio grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.